In occasione del campionato nazionale di ciclismo a cronometro, ad Alto Passo è stato installato il primo dei sette cartelli Io rispetto il ciclista, che dalle prossime settimane popoleranno il territorio comunale nei punti di accesso al paese. Alto Passo è così il primo comune della zona ad aver aderito alla campagna, entrando nella rete dei 2550 comuni italiani che hanno già installato i cartelli lungo le strade del proprio territorio, maggiormente frequentate dai ciclisti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare al rispetto di chi si muove e corre in bicicletta e l'auspicio è che anche altri territori facciano la propria parte. A presentare l'iniziativa è stato il presidente della farmacia comunale Roberto Marchetti, insieme al sindaco Sara D'Ambrosio e al delegato alla sicurezza dell'associazione corridori ciclisti professionisti italiani e ideatore della campagna nazionale Marco Cavosto. Passo importante per questa zona che ancora non ha molti comuni che hanno aderito, però speriamo che come in tutto il resto d'Italia poi ci sia questo effetto domino che faccia comprendere anche alle altre amministrazioni l'importanza di un'informazione che non riguarda in effetti il ciclista ma le persone e la loro incolumità. Grazie.